Avete fatto vedere da subito che volate fortemente questa vittoria, la qualificazione alla finale, soprattutto anche per riscattare lo 0-0 in campionato, due gol proprio nei primi sei minuti. Sì, la Coppa era un obiettivo principale perché appunto come il campionato ci può portare a fare quel salto di categoria e ci siamo legati al dito la partita di domenica, il risultato diciamo non ci è piaciuto e quindi si è visto fin dai primi minuti che stavamo molto carichi per questa partita e per raggiungere il nostro secondo obiettivo. In finale sarà ancora derby? Certo, sarà ancora derby, una partita difficile, due squadre forti e speriamo di vincere noi. Domenica intanto però si torna a parlare di campionato, affrontarete lo spoltore? Certo, una squadra diciamo che si trova in una situazione difficile perché viene da delle sconfitte importanti quindi verrà qui col coltello a tre denti ma noi ci faremo trovare pronti. Hai aspettato le semifinali per timbrare i primi gol in Coppa Italia all'andata e poi la doppietta al ritorno? Sì, ogni tanto faccio due gol quindi oggi ho aspettato e l'ho fatto. Però intanto vi siete guadagnati l'accesso alla finale, sarà ancora derby con Giulianova? Sì, l'importante per noi era andare in finale perché per il nostro futuro dipendeva anche dalla Coppa quindi siamo andati avanti, sono contento per tutto. Soprattutto siete entrati in campo con grande determinazione dopo lo 0-0 di domenica, due gol nei primi sei minuti. Sì, sapevamo che per noi la finale era importantissima quindi siamo entrati concentrati. Domenica, nuovo campionato, adesso la Coppa Italia tornerà a fine gennaio, adesso in campionato sfruttarete ancora il buon olis perché giocherete ancora qui con lo spoltore? Sì, giochiamo in casa e dobbiamo dare il meglio, è casa nostra e dobbiamo fare sempre il massimo qui da noi. Dottore, con una squadra che nelle ultime tre giornate ne ha presi 13, non ne ha segnati un momento un po' particolare. Eh, ora ci è grato, però noi dobbiamo pensare a noi e basta.